Ciao a tutti e bentrovati. Oggi Chiesa Livorno Informa vi accompagna a conoscere la parrocchia di San Ferdinando, ma prima il Vescovo Simone ci parla della processione del Corpus Domini. Monsignore, il mese di maggio e i primi giorni di giugno sono un periodo particolare, ricco di celebrazioni per la Diocesi. Io devo prima di tutto ringraziare per la grande partecipazione, anche tutti i media l'hanno sottolineato, quest'anno alla festa di Santa Giulia. Mai sarà vista tutta quella popò di gente, sia in cattedrale, sia dopo nella processione e la benedizione del porto. Quindi grazie a tutta la popolazione che ha partecipato, grazie a tutti coloro primi se le cantine, ma la Livornina, tutta l'amministrazione, tutti coloro che si sono adoperati per la bella riuscita della festa della città di Livorno, della festa di Santa Giulia. Purtroppo, come ho già avuto modo di dire, questa grande, bella soddisfazione per la festa di Santa Giulia si è subito infranta con dei fatti che sono avvenuti nella cappella dell'ospedale. Sono andati a rubare delle pissi dei contenitori, delle oste consacrate di latta, il che vuol dire o sono ladri, citrulli, che sono andati a rubare il nulla, oppure perché non hanno preso le pissi di credendole preziose, ci hanno lasciato le ostie? Il sospetto è che siano in ripresa nella zona, sapevamo già che in alcune realtà della Toscana tutto questo era pane quotidiano, i gruppi satanisti, i quali nei loro culti demoniaci hanno la profanazione delle osse consacrate. Questo sarebbe una cosa molto, molto triste, triste perché vuol dire che c'è un sacco di imbecilli che si prestano a questi riti che li spappolano dentro. Ricordatevi cosa è successo a quelle ragazzine che addirittura andarono a uccidere quella suora, per cui rendetevi conto che non sono culti innocenti. Poi ci scappa il morto, poi ci scappano situazioni incredibili. Mi auguro che non sia tutto questo, ma i segnali sono in altra direzione. È evidente che la profanazione è stata grandissima, prendere delle ostie consacrate, Gesù sacramento per profanarlo, e profanarlo facendo riti satanici. Ci sarà un'adorazione eucaristica di riparazione, ci sarà una messa di riparazione, ma c'è un'occasione grande per che tutti i cattolici livornisi possano offrire un'adeguata riparazione e culto eucaristico. Sarà la processione eucaristica del prossimo Corpus Domini, il 7, se non vado errato. Quest'anno la processione del Corpus Domini andrà dalla Chiesa di Santa Andrea alla Cattedrale attraversando Piazza della Repubblica. Sarà una bella occasione per tributare onore e gloria alla Santissima Eucaristia e sarebbe bello se lungo la Via dell'Ardara e in Piazza della Repubblica e in Via Grande apparissero, come è avvenuto per Santa Giulia, e ringrazio chi l'ha fatto, un po' di fiori, proprio petali, ma di margherite, niente di eccezionale, per omaggiare la Santissima Eucaristia. Vi aspetto tutti per questo omaggio alla Santissima Eucaristia, il domenica 7 giugno. Padre Emilio viene dalla Polonia, sono due anni che è a Livorno. Ci puoi raccontare questa parrocchia? Questa parrocchia sulla carta è piccola, perché abbiamo circa 600 persone, ma veramente parrocchia è bella, perché da una parte è storica, stiamo qui da 300 anni, è parrocchia sempre dei nostri padri tintari che si occupano di questa parrocchia da 300 anni. La gente che ci aiuta nella parrocchia è veramente buona, sono molto aperti e accoglienti. E possiamo dire che siamo più piccoli, più poveri, in Livorno come parrocchia, ma veramente cerchiamo con la gente trovare pastorale e le cose adatte per questo rione. È una pastorale particolare quella dei padri tintari? Sì, perché noi ci occupiamo dall'inizio, dalle liberazioni dei schiavi, come vediamo anche Altare Maggiore, ci presenta la visione che ebbe nostro fondatore e Papa Innocenzo III, che ci presentano due schiavi. e da anni lavoriamo con schiavi e dopo, come padre Michele, lavora qui in carcere. Per questo ora, in questo periodo, i carceri sono il nostro primo livello pastorale. Ma anche i migranti? Sì, anche i migranti, perché parrocchia, anche come ha deciso il vescovo Simon Giusti, che sarebbe la sede dei due uffici, Migrantes e Mare. Per questo qui trovano i migranti e tutti i gruppi etnici, anche lo spettacolo viaggiante, punto di riferimento. Iva e Gabriella fanno parte della Caritas, della parrocchia. Ma quali sono, Iva, i servizi che offrite? Noi abbiamo 30 famiglie che una volta al mese diamo il pacco, però non solo il pacco dei viveri, ma facciamo insieme al parroco. Il parroco fa un po' di evangelizzazione. Poi facciamo dei piccoli rinfreschi per poter parlare con loro, aiutarli, insomma, chiedere della famiglia, il bisogno dei figli, se lavorano o non lavorano. D'altra parte è stata la nostra fondatrice Olimpia, che ci ha insegnato a non dare solo il pacco, ma a farli parlare e aiutarli, se era possibile. Gabriella, invece, tiene il legame tra la parrocchia, i malati e gli anziani della comunità. In che modo? Dunque, innanzitutto, assisterli chi desidera la comunione. Quindi sono ministra della comunione, quindi porto la comunione, e quindi l'assistenza anche religiosa da questo parte con l'aiuto col parroco. E poi cerchiamo di tenere il contatto con questi anziani, soprattutto per farli sentire sempre inseriti nella parrocchia, nel gruppo sociale della parrocchia. Anche coloro che vengono portati negli istituti, andiamo a visitarli, cerchiamo di farli sentire la presenza proprio, che non sono abbandonati. Pensi che qui ci sono degli anziani che sono nati in questo rione e sono rimasti fino a che non sono stati portati negli istituti per ragioni di necessità. Siamo con Rosaria, Suor Virginia e Antonietta, che rispettivamente si occupano della corale, dei bambini e dell'asilo, e soprattutto anche con Antonietta, che si occupa della catechesi e dei sacramenti. Rosaria, cosa fate al coro? Al coro, per prima cosa, ci siamo riuniti un po' tutti. C'è il rione Venezia, che fa parte della parrocchia, poi San Ferdinando, tutte le mamme e le nonne dei bimbi, e tutti insieme, con una suora che ci aiuta con la chitarra, abbiamo creato su questo coro, che riusciamo anche ad animarlo un po' con canzoni, con i canti, più vivaci, più... Insomma, cerchiamo di tirare su qualcosa di nuovo. Suor Virginia, invece lei si occupa dei bambini, soprattutto a scuola, perché qua vicino c'è la scuola. La scuola, sì, cerchiamo di evangelizzare a scuola, perché abbiamo... veramente ci ha dato la gioia quest'anno che abbiamo fatto battezzare, d'accordo col parroco, alcuni bambini che non erano battezzati ancora, 4-5 anni, e quindi veramente è stato bello questo per la comunità parrocchiale. E poi cerchiamo di animare anche la Santa Messa qui tutti i giorni in parrocchia, anche con l'aiuto delle altre consorelle, e i canti, il rosario, tutti i giorni. E poi ancora faccio la catechista ai bambini la domenica mattina e cerchiamo ecco di evangelizzare. Antonietta invece si occupa della catechese e degli altri sacramenti. Sì, in particolare della preparazione al battesimo per i genitori. Io comunque qui vari anni che collaboro con la parrocchia insieme a mio marito che è organista. Questa preparazione ai battesimi è importante più che come già come diceva Paolo VI più che testimoni abbiamo bisogno più che di maestri abbiamo bisogno di testimoni. Quindi in questo senso sentiamo la catechesi. In più non trascuriamo la formazione e quindi durante l'anno con Padre Emilio partecipiamo al gruppo biblico e al gruppo di spiritualità trinitaria. Gianfranco fa parte del Consiglio Pastorale degli Affari Economici della parrocchia. Quali sono i progetti che in questo periodo state mettendo in cantiere o avete concluso? Sì, noi da quando è arrivato Padre Emilio diciamo che abbiamo iniziato la ristrutturazione di questa chiesa meravigliosa che da molto tempo necessitava di queste opere e stiamo pian piano concludendo queste opere. Il Consiglio in generale si occupa di pianificare tutti quei progetti che necessitano di interventi economici attivando tutte le strutture che ci possono dare una mano. Il Vescovo in primis le belle arti e tutti quegli altri personaggi che possono essere utili a questa nostra storia. Emilio fa parte del Consiglio Pastorale avete un progetto che si indirizza soprattutto verso i giovani in che modo cercate di aiutarli? I giovani facendo dei corsi di biblici e poi alcuni di questi hanno già una famiglia dei figli e quindi attirarli sia dal punto di vista catechetico e sia dal punto di vista anche ludico e appunto questa pastorale noi cerchiamo di avere iniziative che vanno a vantaggio sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista spirituale. Gino invece si occupa della comunicazione con il quartiere della Venezia che è un quartiere piuttosto fervente. Sì è un quartiere che ha dimostrato nel tempo di essere molto vicino alla parrocchia con alcune iniziative che riguardano il ricordo un esempio il ricordo delle vecchie famiglie livornesi veneziane con i soprannomi i nomi di battesimo e i soprannomi il presepe vivente e non ultima la collaborazione per quello che riguarda la processione della Madonna del Buon Rimedio che avverrà il 4 di giugno con la collaborazione strettissima della sezione nautica. E adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana martedì 2 giugno alle 10 la Santa Messa per i direttori e collaboratori degli uffici diocesani alla chiesa di Nostra Signora del Rosario mercoledì 3 giugno alle 18.30 il tavolo dell'oggettività con i primari dell'ospedale in Vescovado giovedì 4 giugno alle 21 l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione e la processione della Madonna del Buon Rimedio alla chiesa di San Ferdinando infine domenica 7 giugno alle 17.30 la chiesa di Sant'Andrea i Vespri e la meditazione del Vescovo e la processione in occasione della solennità del Corpus Domini verso la Cattedrale alle ore 19 ci sarà poi la benedizione grazie per essere stati con noi ci rivediamo tra 15 giorni con una nuova parrocchia ed una nuova puntata di Chiesa Livorno in Forma ciao a tutti grazie a tutti